Una scheda anamnestica per tutti gli studenti dei collegi, compilabile su base volontaria, è una campagna di promozione vaccinale. Sono le novità promosse dall'Edisu, l'ente per il diritto allo studio universitario di Pavia. È stato il presidente dell'ente, Francesco Rigano, ad annunciare le due iniziative, a margine della conferenza stampa di martedì, per le lauree STEM al femminile. L'università e i collegi sono luoghi di scienza, ha sottolineato il professor Rigano, e la pandemia ci ha insegnato molto sulla gestione della situazione sanitaria. Anche sicurezza, ragionevole sicurezza sanitaria. Sotto questo aspetto i collegi di Isu hanno imparato moltissimo nei questi due anni di emergenza Covid e stanno andando oltre. Mi piace di dire che a tutti i nostri collegiali all'ingresso verrà somministrato, su base volontaria, naturalmente una scheda anamnestica, quindi questo ci consentirà, per chi lo vorrà, di avere un quadro della situazione clinica della persona. Poi partirà l'università luogo di scienza, i collegi sono luoghi di scienza, e partirà una motivata e articolata campagna di promozione vaccinale. Ammesso che ci sia ancora qualche collegiale che non sia vaccinato, ma certamente in questo momento credo di poter dire che tutti quelli che hanno voluto vaccinarsi sono stati vaccinati. Credo che saremo attorno all'80% della presenza e questo per noi è molto importante. Sicurezza dei collegi e scientificità degli studi.